La sala è piena, ma magari se fate un applauso forse riesco a capirlo meglio. La dimensione che noi abbiamo chiamato del filtro emotivo. Noi fiducia ne abbiamo tantissima. È un onore per un'istituzione come Ca' Foscari essere presente su questi temi. È una grande parte del gioco, ci sono fondamentalmente dei terapeuti economici. In un ambito europeo l'Italia rimane l'unico paese che non consente un'organizzazione dei mezzi e delle risorse in forma societaria. O siamo in Europa o non siamo in Europa. Non ragionare per divieti, ma di accogliere sostanzialmente la possibilità di un esercizio e ampliare anche quindi sostanzialmente la concorrenza. Le occasioni come queste sono anche un momento per ragionare insieme sugli sviluppi della professione. Grazie a tutti. Here we go.